Bentornati ragazzi, abbiamo un nuovo pacchone, la fabbrica diciamo, l'azienda. Ma che fabbrica? Ma che c'entrano le fabbriche? Black. Black. Che vuol dire black? Nero. Bravo papà, bravo, bravo. Papà, papà, la birretta. Come una birretta? Ah, è vero, l'ho dimenticato. Grazie papà, grazie, grazie, molto gentile, molto gentile. La aprite? Sì, sì, sì. Ora lo dobbiamo tagliare. Tagliare. R-R-R-D. Ah, vedi? Questa vela, secondo te, sarà una vela da wingfoil o da windsurf? Da windsurf. Mi sembra, mi sembra. Ma è fantastica. Questa è la mia vela. Ma questa è una cosa fantasmagorica. Guardate ragazzi, questa è la mia vela. La voglio aprire io. Allora, facciamo una... Perché è mia ed è mia. Sì, 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 giusto, giusto. Però voglio fare un attimo una cosa. Allora, se lo apriamo. No, vabbè. E ho tutta la mia frezzatura. Ah, guarda che bomba! Non ci voglio credere! No, vabbè, ci sei riuscito! Questo è il mio albero. No, fantastico! Ora, questo è vero. No, vabbè! Adesso la vediamo. Non ci credo! Non ci credo! Adesso! Devi scioglierla da qui, da qui, papà, da qui. Porte! Vediamo! No! Non ci credo! Ma questa è super figa! Questa, ragazzi, è la mia! Oh, santo cielo! Dobbiamo provare a montarla! Comunque è bellissima! Ti piace, papà? Guardate, c'è il colore aragosta. No, vabbè. C'è il black con la scritta. Io la monto, papà. C'ho voglia di montarla. Anche io. Io prendo bomba. Oh, santo cielo! Questa è una città figatissima! Comunque è peccato che non c'è la tavola. La tavola la prendiamo dopo, capito, papà? Una cosa alla volta. Ma il diametro di questo bomba come? Prova un po' a impugnarlo. Si impugna bene? Sì. C'è qualcosa? Sì! Sì! Bicchierino per montarla! Un bicchierino! Quello va attaccato alla base dell'albero. Ok. Guardate che spettacolo! È davvero uno spettacolo! Ok. Si prende il bomba. Ora non si scherza. No, ora davvero, papà, si fa... Guarda che bello questo bomba! Ora davvero, davvero... Non ci voglio credere! Ora davvero, davvero... Cioè, ti dico... Oh, ma posso parlare? Scusa, papà, scusa. Ora davvero, davvero si fa sul serio. Secondo me sì, papà. Tiriamo qua. No, papà. Non ci voglio credere. Guardate che spettacolo. No, vabbè! Ma di che stiamo a parlare? Guarda che figata! Tiriamo? Oh, santo cielo. A me, papà, ti dico la verità. La misura... Mi sembra davvero perfetta. No, vabbè, papà. Allora, papà, ti ci trovi bene? Sì. Allora, quando vuoi iniziare, me lo dici e iniziamo, ok? Ok. Però no... Adesso, papà, ma siamo ancora qui? Non c'è il mare, dai! Ciao, papà. Ciao, papà. Grazie.